Uccisione confermata. Elimina i bersagli e prendi le piastrine per vincere. Cambio caricatore! Mi sparano addosso! Sto ricaricando! Sangue freddo in funzione! Che cazzo fai? Spara al nemico! Una è confermata. Uccisione confermata nel nemico a terra. UAV in attesa. Piastrina presa, uccisione confermata. Mi chiedo ricognizione aerea! UAV in sorvolo sull'area. Ricognizione disponibile. UAV alleato online. UAV nemico nello spazio aereo. Uccisione confermata. Confermo un'uccisione. Quei bastardi! Mi stanno sparando! Ti copro io! Elicottero di supporto alleato in zone. Fantasma di... Mi ha stato benciato! Altro UAV è in sorvolo. UAV attende istruzioni. Uccisione confermata. Avventi. Wave un sarvolo di ricognizione. Metà della missione è completata. Conquistate la vittoria. Intento meccano! Avvio un caricatore! Arriva un assordente! Mi hanno mancato! Nuovi, fine autonomia. Nemico! Copro le spalle Nemico per l'aria! Uovi nemico attivo Ucciacone confermata Cambio caricatore Ci sei o ci fai? Ti guardo le spalle Il nemico ha richiesto un UAV di disturbo Una è confermata UAV pronto all'uso Confermato, UAV operativo in zona Mi hanno beccato! Drone bomba nemico nell'aria Glielo dovevo! UAV fine auto Mintile cruise in attesa UAV alleato in attesa Sto ricaricando! Siamo allenati! Supporto aereo! Per toccionare Guadagniamo terreno, non mollate. In arrivo! Cambio caricatore, flash, in arrivo! Non si fa via in turbolo. Ultimo caricatore! Arriva una storbente! Ultimo caricatore! Ultimo caricatore! UAV nemico in volo! UAV in attesa! Hunter, missione compiuta! Ottimo lavoro! Otro caricatore! Ultimo caricatore! Ultimo caricatore! Grazie a tutti.